Un bilancio che è stato sottoposto ai sindaci che sono il vero motore della città metropolitana con pari dignità dal più grande, quello di Torino, come numero di abitanti, anche al più piccolo numericamente ma altrettanto significativo. Ma la prossima volta i sindaci dovranno riuscire, questa è la nostra idea, a costruirlo, questo bilancio, insieme. Quindi non soltanto in emergenza, non soltanto speriamo con tagli che verranno invece modificati dal punto di vista del legislatore che finalmente comprenda quanto motore di sviluppo deve essere la città metropolitana e quanto però è significativo se noi riusciamo non soltanto a invertire come già in questo bilancio il trend negativo, abbiamo più investimenti in edilizia scolastica, più investimenti in viabilità e in sicurezza già nelle manutenzioni e negli interventi ordinari, a parte quindi lo straordinario, ma noi speriamo proprio di poter diventare il volano di una città metropolitana che diventi quello che la 56, cioè la legge del Rio, ha previsto. In questo ambito non soltanto vorremmo condividere ma speriamo che tutti comprendano che se già quest'anno con le ristrettezze, le difficoltà e le incertezze questo bilancio c'è stato, ha pareggiato, è un bilancio che rispetta il patto di stabilità, è un bilancio che comunque investe, a maggior ragione possiamo cercare di essere ottimisti e col nostro volontariato dare una spinta perché questo ente dia le risposte di servizi che i cittadini della nostra città metropolitana si meritano.